bella raga e niente oggi sono venuti a fare un giletto ci sto a far camminare un pochettino nemesi e siamo venuti in zona mare come al solito perché io sono amante del mare ragazzi con me a montagna vedrete poco buona tardi me ne vado all'expert a vedere se c'è qualche bella offerta sui computer portatili perché ho venduto il mio mac e quindi ora sono senza computer portatili vediamo se c'è qualche offerta buona vediamo un po eh eh oh quei prezzi mi hanno fatto scappare non ho capito se sto a comprare computer windows o sto comprando mac perché ormai i computer pc portatili viagginuti a mille mille e cinque a sto punto compro un altro order mac book la vita è strana è veramente molto strana è vero che chi vivrà vedrà ma oggi cosa vedremo e vedremo vedremo con le ultime mareggiate in calabria è successa una cosa stranissima più unica che rara e si è andata a formare un'isola quindi ora io vi porterei a vedere quest'isola perché non è un'isola come tutte le altre è un'isola un po' particolare è un'isola che non c'è comunque è vero che appena qualcuno mette piede in calabria subito arrivano i brutti ciepi e niente io continuo il video mentre lui fa la like scusate isolani salutate gli amici e niente proprio quando meno dell'aspetti vai a incontrare persone che dici ma questi ma di casa che ma che che fanno qua a mirto manca la castrovilla a mirto i polentoni madonna che capelli ho sono venuto ciao viaggio noi siamo sempre in diretta live siamo sempre qua in diretta live sul telefono sul canale di elena manca solo l'action camera ma va freddo? dammi la 1 o dammi la 2 dammi la 2 dammi la 3 io non filmo voi oh oh dal messico ciao sergio ora sergio direttamente ora sergio bellissimo stiamo facendo un casino infatti non si capisce niente ma io mi immagino ah comunque vi do un'anteprima vi do un'anteprima che sabato e domenica prossimo io sono a Bari Nemesi è a Roma Mela time Mela time Mela, fammi vedere la mela perché una mela al giorno leva e al medio di torno non c'è niente da fare Roma e insomma visto che incontri strani che si fanno tornavano dalla Sicilia è stato fermato in Calabria e quindi abbiamo incontrato Valentina e Diego dell'isola che non c'è e quella era l'isola che vi volevo far vedere che non c'è in realtà non c'è perché se venite domani domani forse c'è dopo domani non c'è e da noi andiamo verso Corigliano benedetto computer portatile se riesco a prenderlo e poi vediamo come va vediamo che computer è nel frattempo mi sto godendo Nemesi e vi faccio godere questo tramonto guardate eh !